Mi ha chiamato, questo è un bello yogurtino della Lidl Uno yogurtino della Lina Strawberry Mi ha chiamato, sono andato a camminare e fatti mangiare Mi ha chiamato Giuseppe Cruce col cane Ho fatto 10 kg, no, non 10, proprio Poi l'abbiamo fatto, poi faceva freddo, poi ho fatto una bella cagatina Cagatina, pisciatina e via Allora, mi ha chiamato, una bella cagatina, bella Il padrone ha soddisfazione quando non te la fa troppo molla Bella dura, bella, capito? Allora, mi ha chiamato Giuseppe Cruciani, va bene Poi dovremmo parlare, mi ha chiamato, io ho fatto la scenata sul Gabibbo Non so se l'avete sentito in diretta, adesso tirerò giù il podcast Poi devo parlare di quel povero pezzente che ha fatto Dai che adesso vuol cambiare canale per monetizzare Così vi piglia per il culo due volte Quel camionetta fallita lì Con lì, con lì, con lì, con lì, con lì, dai Quel pezzente E poi dopo vi parlerò, vi parlerò il tedescaio, dai Comunque, lasciamo perdere, dai Poi dopo vi parlerò, vi parlerò Del Di Gasoline E della live che c'è stata, non so se è stata pubblicata sul Jaguar Quindi è una serata, è una serata calda Very hot Se non ci sono quei film porno alla televisione Ecco, uguale, molto hot Penthouse, ve lo ricordate? Penthouse, ecco Una roba tipo penthouse Al prossimo video, ciao